Cosa potete fare per aiutare la categoria delle piccole e medie imprese nel grande tema dell'accesso al credito? I commercialisti da sempre sono accanto alle imprese perché in ogni impresa c'è almeno un commercialista di riferimento. Nello specifico la prima cosa che ci sentiamo di dover fare è informare i piccoli imprenditori delle normative che stanno entrando in vigore e che andranno a modificare le organizzazioni proprio delle imprese perché le imprese dovranno avere la possibilità di dimostrare all'esterno di avere corretti assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Questo vuol dire che bisognerà essere in grado di spiegarsi all'esterno, raccontarsi all'esterno soprattutto al mondo mancario che deve rispettare regole a sua volta per erogare il credito e quindi strutturarsi per essere in grado di acquisire credito dalle imprese bancarie. I commercialisti lo fanno da sempre questo tipo di lavoro e quindi hanno una grande attenzione ai conti, alle organizzazioni anche in un'ottica prospettica perché la norma di nuova emanazione richiede uno sguardo verso il futuro, quindi la capacità di rappresentarsi domani. La città metropolitana di Torino ha avviato questo percorso di incontri proprio informativi rivolti al territorio. Il grande tema è anche quello della formazione. Sono pronte le piccole e medie imprese a farsi formare? Diciamo che sta iniziando ad esserci molta curiosità. C'è ancora scarsa conoscenza della normativa. Non appena gli imprenditori ne prendono coscienza indubbiamente si rendono conto di avere necessità di approfondimento e quindi si innesca un meccanismo virtuoso che porterà le imprese ad essere pronte. Le più grandi sono più strutturate e quindi va da sé che siano già pronte. I più piccoli si stanno avvicinando. È un passaggio lungo. Purtroppo il tempo a disposizione non è tantissimo perché la norma avrà la sua piena efficacia nel mese di agosto dell'anno prossimo. Quindi i mesi non sono tanti. Per cui gli imprenditori si stanno rendendo conto di dover agire velocemente.